Ciao amici, qui Draconius che vi parla dall'esterno di dove sono dovuto andare, ma è meglio che non lo dico dove perché ci sono delle necessità di privacy che è meglio che non faccio problemi con gli altri. Quindi siccome ho bisogno di fare questo video lo faccio all'esterno e siamo tutti quanti tranquilli. Per il momento la situazione è buona, ho parlato con i miei dottori quindi sto abbastanza bene. Solo che, devo dire la verità, tutte queste chiamate che sto ricevendo da amici, da persone che mi vogliono sentire, ieri in pratica il mio tablet non stava mai fermo, non stava mai chiuso. Mi hanno chiamato tantissime persone e mi è stato detto giustamente che devo imparare a dire anche che aspetta, piano, una cosa alla volta perché non sempre si può contentare tutti. Comunque sì, comunque adesso sono un po' come dire, un po' troppo preso, troppo esaurito proprio per questo perché ieri sono successe tante cose, dove se tutte quante una dopo l'altra e a dire la verità sono diventato, oggi sto proprio giusto, sto proprio stanco e non so proprio se devo diminuire un po' le cose che faccio. Perché guardate, io per esempio ieri volevo fare un live con Aerotrack Simulator 2 mentre facevo con l'overlay, con il track overlay che sarebbe un overlay con il quale si può fare di tutto praticamente. Ho imparato a usarlo, mi hanno insegnato a usarlo, però vi devo dire la verità, non avevo la forza neanche di fare qualcosa, al massimo ho fatto la cena. Guardate, non è facile, non è affatto facile perché mi sono dovuto sforzare proprio di fare le cose ieri. E stamattina è anche peggio, io poi stamattina dovevo pure fare attività fisica e non vi dico che era la difficoltà che ho avuto, ma proprio grande. Devo provare un po' a fare, devo anche dire aspetta, non ti dico di no ma neanche, ma aspetta un po' perché quando succedono queste cose succede che diventa molto più difficile, è difficile controllare la situazione. Vi posso dire però che comunque, come mi è stato detto, non c'è niente di male in questo che sto dicendo adesso, quello che sto facendo. perché non è una cosa che, aspettate, è anche giusto adesso difendersi, mi hanno detto, perché aiutare gli altri è sempre una cosa bella, però non è sempre possibile. Comunque adesso sono molto demoralizzato e molto esaurito, però posso dire di avere più la situazione sotto controllo di prima. Cioè, quando vi si viene bombardati è un po' più difficile. Comunque, vi ringrazio tutti dell'ascolto e non vi preoccupate che Draconius è sempre qui. Vi farò altri live, altri video e se volete seguirmi siete tutti quanti benvenuti. Lasciate un like, un commento magari, quello che volete. Solo vi prego rispettate le regole della community. E mi raccomando, sempre in gamba. Non mollate mai la vostra lotta contro la malattia, contro quello che vi fa star male, perché è una delle lotte più giuste che ci possono essere. La lotta contro la malattia è una lotta che si può fare tranquillamente, non tranquillamente, scusate, mi sono espresso male, che si deve fare a cuore leggero, perché è giusto combattere la malattia e combattere ogni cosa che ci fa star male. Non siete mai stanchi di farlo. Vi ringrazio tutti. Ciao.